Sono Alberto Cogliati, ho 25 anni di esperienza professionale in aziende nazionali, internazionali, quotate e non. Mi sono spessissimo dedicato in costruzione di network e da settembre del 2014 mi trovo in Engel & Folkers con il ruolo di group sales manager per continuare a aumentare l'attività di sviluppo sul territorio nazionale di un marchio e di un network prestigioso e riconosciuto in tutto il mondo. Engel & Folkers soffre in Italia un'importante occasione di sviluppo che si rivolge prevalentemente a figure imprenditoriali o manageriali con background di organizzazione e gestione di sviluppo di impresa oltre evidentemente a chi ha già maturato esperienze in questo mercato. La nostra società opera nel mercato immobiliare che ha meno risentito della crisi e che sono sicurissimo potrà dare anche nei futuri anni possibilità future molto interessanti. Di fatto oggi Engel & Folkers è praticamente l'unico network presente in Italia di fascia alta che apre i mercati a clientela internazionale non solo per il suo network diffuso su tutti e cinque i continenti ma in particolar modo per la presenza in alcuni paesi dove per l'acquisto dell'immobile in Italia c'è maggior interesse. Engel & Folkers continuerà anche quest'anno un'attività di sviluppo molto precisa determinata mirata vogliamo andare a presentarci laddove evidentemente ancora non ci siamo in alcune città del nord per fare degli esempi a Torino, a Genova o a Brescia piuttosto che nel sud a Napoli, a Catania, a Bari o a Lecce ma devo anche rilevare che il 2014 è stato un anno straordinario perché ha assegnato il 30% in più di contratti sottoscritti rispetto al 2013 evidentemente con questo tipo di attività che ci vede ad oggi con 44 contratti sottoscritti in Italia con agenzie operative che devono evidentemente aumentare dovremmo aver bisogno del contributo di tanti agenti immobiliari qualificati o meglio da qualificare attraverso una nostra formazione interna perché per raggiungere quote di mercato rilevanti per andare a penetrare e a stuzzicare a incoraggiare un cliente di target medio-alto non ci si può inventare nulla non si può esercitare questa attività professionale in forma artigianale o fantasiosa come oggi spesso avviene sul mercato domestico ma solo attraverso un'organizzazione un'attività lavorativa molto strutturata con delle regole, con delle formule che funzionano moltissimo in tutte le altre parti del mondo dove è presente Engel e Folkers e che abbiamo deciso di replicare in Italia concludo dicendo che il 2014 è stato un anno straordinario di gruppo perché per la prima volta in 35 anni abbiamo superato i 300 milioni di euro di ricavi globali da commissioni facendo segnare un 10% in più rispetto al 2013 quando avevamo fatto ricavi per 273 milioni quindi tocca di QTSS più risp automate che per ilaggeri costanto quella frequenza si lo scopporto un'attività che per esempio chi che per esempio